Aspetti della giostra del Saracino svolto sia ad Arezzo. Come si vede i cavalieri devono correre a lancia in testa contro un automa cercando di percuotere la targa dei punti che egli reta sul testo e che difende serrando nel pugno destro un flaggello di corde e di palle di legno piombato. Grazie a tutti.